Al meglio, ottimamente, nessun operatore sanitario avrebbe dovuto perdere la vita per assistere i malati di Covid-19. La dico proprio perché faccio parte della categoria. Sapete che svolgo non solo attività scientifica e didattica, ma vi è ben noto anche attività cliniche. Probabilmente la parte che ancora di più mi piace del mio lavoro e per cui, o meglio, rispetto alla quale non rinunzierei mai. È chiaro che chi assiste malati come questi deve essere sempre messo nelle condizioni sia in termini di dotazione di dispositivi di protezione individuale, sia in termini anche di percorsi di formazione. Perché anche qui va detto in maniera molto chiaro che evidentemente uno scenario, come quello che stiamo vivendo prima, non l'avevamo mai vissuto e quindi c'è stato anche una sorta di learning process. Di fatto entrambi questi cardini, questi piloni fondanti, devono essere ottimizzati per tutelare il personale sanitario.